Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 16 marzo, 197 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19. Emerge dei dati forniti dalla regione. 164 erano ieri. Quattro pazienti sono guariti e uno è deceduto. Dei 190 pazienti, 5 sono di fuori regione. Nella provincia di Perugia i positivi sono 129,63 in quella di Terni. Sono ricoverati in 57,3 di fuori dall'Umbria, 36 nell'ospedale di Perugia e 18 in quello di Terni. Dei 57 ricoverati, 21 sono in terapia intensiva, 11 nell'ospedale di Perugia e 10 in quello di Terni. Le persone in osservazione sono 2.196, 1.548 nella provincia di Perugia e 648 in quella di Terni. Nel complesso, entro le 24 del 16 marzo sono stati eseguiti 1.287 tamponi. Sempre alla stessa data risultano 462 soggetti usciti dall'isolamento, di cui 323 nella provincia di Perugia e 139 in quella di Terni.